Amici del mio raggio New York, oggi convincerò mia mamma che mi deve cucinare i famosi mac and cheese che scadono tra 20 anni, 180 porzioni, ma si c'è. Mamma! Sì? Vieni un attimo. Dimmi. Vogliamo cucinare mac and cheese? Ma che so questi mac and cheese? E' pasta col formaggio. Ma sei matto? Ci facciamo un bello spaghetto. No, ma facciamo, voglio solo provarli. No, io non le mangio. Ma no, le provo io, le mangio io un attimo. Ah no, no. E' buono. Mi rifiuto. Ma queste sono facili. No. Ma no, ma queste è facili, praticamente, vedi, questa è la porzione e devi metterla con l'acqua calda e qua ci sta il macchino inciso. No, mi sembrano croccantini per cane. Adesso proveremo a cucinare. Allora, dobbiamo cucinarli. Come si cucinano? Allora, l'acqua calda lì c'è pronta. Tenuto? Ma che sto scendo? Mi fa... Oddio! No, ma non li devi aprire, devi mettere già chiuse nell'acqua e poi li devi aprire. Ma che ne sai? Così si fa. Ma questo non... Ma è sicuro che sono spaghetti? Ma questo è latte, ma chi povera. Ma questo è latte. Ma questo è latte. Ma questo è... Ma questo è... Ah no, ma questo fosse solo il formaggio. Ecco, vedi? Ecco la pasta. Eccetera. Dobbiamo fare anche la pasta, l'abbiamo scoperto. Questa è la pasta normale, questa è normale. Questo non lo so, se cos'è. Questa è della pasta. Non è così male. Basta, basta, assaggire. Aspetta, prendiamo l'acqua. Ma metti il case qua dentro. Mettiamo qua... Ma no, ma forse bisogna mettere l'acqua e poi mettiamo l'acqua bollente. Va bene. Ecco qua. Mettiamo un po' di più. Allora, mettiamo l'acqua. Bene, bene. E poi dobbiamo mischiare. Però qua lo devi aprire anche. Perché si deve cuoce. E non è aperto, è aperto. Mi schioio, mi schioioio. Secondo me dobbiamo mettere un po' più acqua. Lo possiamo mettere. Secondo me ci vuole un po' più acqua. Mettiamo un altro po' di acqua? Sì, sì, metti più acqua. Secondo me ci vuole un altro po'. Ancora no? Secondo me sì. No, poi buttiamo la pasta direttamente. No, facciamo un altro po'. No, facciamo un altro po'. Mettiamo un po' di acqua in più ci vuole o no? Sapore del formaggio è mentale. Non è male. No, devo dire la verità, no. Era un po' prevenuta. Assaggio io? Assaggio io. Non deve essere al dente, deve essere squagliano. Ma non abbiamo messo il sale nell'acqua. Mettiamo un po' di sale. Mettiamo un po' di acqua in più ci vuole un po' di acqua in più ci vuole un po' di acqua in più ci vuole un po'. Grazie. Vai. Non ti messi, basta. Un po' salati. Un po' salati. Perché c'era dove fosse il sale nell'acqua, non dovevamo... Sempre la pasta e i quattro formaggi. Com'è? Piero, per quel che si dica, veramente non è male. È buona, soltanto che è salata. È salata. Ma perché? Sare il formaggio che è salato. Perché noi poi acqua nella base, noi non abbiamo messo molto salato. No, forse il formaggio, forse dobbiamo mettere più acqua per diluire il formaggio. Dobbiamo mettere meno formaggio. Meno formaggio. Comunque non è male, sinceramente. È salata. Bisogna mettere più acqua. Abbiamo messo troppo formaggio. Abbiamo messo... E questo è pietro, poi è cucinato. Vedi, è già il busto. È già tutto pronto. È salata. Hai visto? Comunque... L'esperimento è finito. Voto? Sette. Tuma? Cinque. Ci vediamo io. Ciao. Tra i nostri prodotti su JerryAmerica.com erdì. Abbiamo lo С Getter Russia in qualcuno. ChIOвонimento. Ho. Ho. Grazie a tutti.